Belen Rodriguez e Stefano De Martino stavolta sembrano fare sul serio la coppia si è concesso un weekend a Napoli con il figlio Santiago e la piccola Luna Marie, la bimba che lei ha avuto d'Antonino Spinalbese. Ci sono i genitori dell'Argentina e anche la famiglia del conduttore napoletano. Il papà di Belen, Gustavo e Stefano, sembrano aver trovato un'armonia e anche il rapporto con mamma Veronica è stato ricucito, come ironizza la stessa Belen. Quando fingi di andare d'accordo con il suo c'è, però riesce bene. A sancire la ritrovata armonia familiare è anche la presenza della sorella di Stefano Adelaide.